Musica Benvenuti al TG10, l'apertura dal telegiornale dedicata all'avvertenza Gela, ieri messa all'aperto in piazza Municipio, la messa ufficiata dal Vescovo della Diocesi di Piazza Almerina, Monsignor Rosario Gisana. Si chiede il lavoro per gli operai dell'indotto dello stabilimento Eni. Un momento di preghiera dinanzi al Palazzo di Città per chiedere lavoro per avere certezze del proprio presente e del proprio futuro. Erano in 500 ieri sera ad assistere alla messa ufficiata dal Vescovo della Diocesi di Piazza Almerina, Monsignor Rosario Gisana, da sempre vicino ai lavoratori. A chi soffre? C'erano tutti i sacerdoti delle chiese locali, gli operai dello stabilimento con moglie e figli al seguito, il sindaco Domenico Messinese, assessori, consiglieri comunali e dirigenti sindacali. Non bisogna perdere la speranza. Per noi la speranza è Gesù e siamo convinti che nella misura in cui davvero invochiamo il Signore, perché è chiaro le soluzioni non sono così semplici, L'invocazione ha un duplice, direi, significato da una parte, certamente di stare vicino ai nostri lavoratori, sono i nostri poveri in questo momento, tra virgolette, ma d'altra parte perché effettivamente dove due o tre sono riuniti nel nome del Signore possiamo chiedere qualunque cosa ed Egli ce la concederà. Per cui siamo qui perché vogliamo invocare il Signore e speriamo che ci aiuti ad avere mente lucida per una soluzione che possa essere la migliore per tutti. È una scelta casuale fare la messa dinanzi al Comune di Gela, dunque un invito alla politica a fare di più? A dire il vero sono stati tutti i lavoratori, sono stati loro a deciderlo e a stabilirlo e credo che possa essere anche, non so, se vogliamo interpretarlo in maniera allegorica, uno stimolo, ma insomma di là di questo semplicemente un luogo spazioso dove possiamo effettivamente incontrarci comodamente. Il Vescovo si rivolge direttamente al Premier Matteo Renzi che ha il compito, il dovere di trovare una soluzione al gravissimo problema che interessa i lavoratori dello stabilimento Eni. Pensi a Gela e che ci aiuti, illuminato dalla nostra preghiera, ci aiuti a trovare una soluzione che sia più in fretta possibile e anche più coerente. Lei più volte ha detto che al dramma potrebbe aggiungersi un altro dramma che è quello della malavita organizzata che potrebbe chiedere dei soldi. Lei ha già avuto sentore di quello che sta accadendo a Gela? Ma guardi, al di là del sentore è direi una questione di logica. Quando le persone si impoveriscono, evidentemente è chiaro che per poter mandare avanti e sbarcare il lunario, cosa si fa? Due sono le possibilità. O il suicidio, purtroppo, oppure andare a parare da queste sfere malavitose. Purtroppo sono le condizioni. Quindi noi dobbiamo cercare di evitare tutto questo. Monsignor Gisana ha detto che la sua presenza tra i lavoratori è voluta da Papa Francesco che prega per loro e per le loro famiglie, nella speranza che governanti, politici e dirigenti d'azienda si convertano e diano le disposte risolutive che la gente aspetta da tanto tempo. E questa mattina le sigle sindacali e quelle legate al commercio hanno distribuito ai gelesi le cartoline da spedire al Premier Matteo Renzi. E' un'avvertenza che riguarda l'intero territorio gelese. Dunque voi, ancora una volta, grazie alle cartoline che invierete al Premier Matteo Renzi, cercate delle soluzioni. Non c'è dubbio. E' un'avvertenza che riguarda tutta la città, tutto l'interlanda di Gela. Per cui noi abbiamo coinvolto pure i commercianti e anche con questa cartolina noi diciamo a Renzi e ribadiamo l'impegno che lui ha assunto per questa città e vogliamo che lo rispetti, altrimenti si rischia veramente il fallimento. Gela non vuole morire, vuole vivere con la salute e con lo sviluppo. Questo c'è scritto nelle cartoline e questo è il significato che vogliamo dare. Dopodiché il sindacato non ha il potere di fare le leggi. La politica che ce l'ha, se non vuole compiere le cartoline, compili nelle commissioni e nel Parlamento leggi che aiutino il Gela. E' un problema che riguarda tutto il comprensorio, che noi abbiamo un'economia in cinocchio da un paio di anni. Oggi noi siamo consapevoli di quello che stiamo facendo in cui chiediamo al governo regionale e nazionale con i vari ministri onorevoli di fare un'accelerazione su quell'iter per quanto riguardano le autorizzazioni affinché partano tutti questi candieri che possono partire da subito per dare una boccata di ossigeno a questo territorio che in questo momento è in cinocchio. Abbiamo deciso già stamattina che il giorno 18 saremo presenti al Mise con una delegazione di tutte le sigle sindacali datoriali e affiancheremo così le associazioni di categoria in questo incontro. Stiamo cercando di coinvolgere anche le altre sigle come gli agricoltori che hanno sfilato già, quindi una presenza massiccia a Roma per far capire che non è un problema dell'Eni ma è un problema di tutta la città. Non si tratta più di sigle sindacali, togliamoci tutte le bandiere, qui è l'urlo della città, l'urlo di Gela che sta morendo. Quindi a questo punto ci sono delle azioni che noi prosegueremo a fare, quindi il giorno 18 c'è un'iniziativa che andremo direttamente a Roma, si proseguirà con la speranza che qualcosa cambierà tranne che ci siamo messi d'accordo con tutte le associazioni e anche con i lavoratori di fare un'azione forte perché solo con un'azione forte si pensa possa cambiare qualcosa. Il problema di Gela è un problema che riguarda l'indotto, i commercianti come tutte le categorie professionali riguardano l'indotto indiretto di questa città che fino ad oggi è stata una città basata sull'industria e ad oggi dobbiamo capire ancora su cosa continuerà a basarsi. E ieri sera la trasmissione agora condotta da Franco Gallo ha ripilogato i principali temi che ruotano attorno alla vertenza Gela. La città ridotta allo stremo da una parte, la politica sorda ed incapace a risolvere gli stessi problemi che ha creato dall'altra, Gela sedotta e abbandonata da quella politica che continua ad additare leni come l'unica causa di tutti i mali che attanagliano i gelesi. Gela che invece è semplicemente una bella donna tradita e poi persino violentata dal suo stesso uomo. Non è leni che ha tradito Gela e non è leni che l'ha stuprata e abbandonata. Leni è solo uno degli approfittatori di questo territorio che invece il vero tradimento l'ha subito dai suoi stessi figli, dai rappresentanti di loro, da coloro cioè che i cittadini si sono scelti in tutti questi anni per essere tutelati e difesi ed invece da quegli stessi falsi gelesi o se volete gelesi veri ma che di Gela se ne sono altamente fregati sono arrivate le coltellate alle spalle più feroci. Leni è leni, anche a Porto Marghera lo è, piuttosto che a Livorno a San Nazaro dei Burgondi, ma lì in questi altri siti industriali italiani la stessa Eni non si è comportata in maniera cinica come ha fatto e continua a fare purtroppo a Gela. Perché mai allora, se non perché a Gela ha trovato la più scarsa e becera classe politica che potesse augurarsi l'eni di trovare? Ma d'altronde molti di loro, molti dei rappresentanti scelti dagli stessi gelesi, erano e sono ancora dipendenti dell'eni, iscritti al libro paga contrattualmente. Altri politici invece, pur non essendo dipendenti di retti di Eni, nel tempo si sono iscritti ugualmente al libro paga del colosso a cane a sei zampe. E mentre accadeva questo, la città veniva sistematicamente tradita, giorno dopo giorno, inesorabilmente. Fino al tragico epilogo di questi giorni, con l'atto di morte firmato colpevolmente e senza sé e senza ma il 6 novembre del 2014 al Mise di Roma, con un protocollo che è la certificazione notarile della resa finale della nostra politica a Leni. Ed ora che, come dicono a Catania, a Sant'Agata se la sono portata, i nostri eroici traditori provano a mettere le grate di ferro laddove non c'è più nulla da difendere o da proteggere. Non restano che le parole, parole di sconforto di una città colpita a morte, soprattutto dagli stessi figli suoi. Gela oggi avrebbe tutto il diritto di gridare in faccia a questi rappresentanti politici la famosa frase pronunciata da Giulio Cesare in punto di morte «Anche tu, brutto figlio mio!» Un pensiero che ieri sera ad Agorà, un ex lavoratore dell'Indottoeni, ha in effetti reso pubblico. «Quindi la città oggi è stata custodita o devastata? Quindi noi cosa dobbiamo chiedere? Non io lavoratore soltanto, la città di Gela, i cittadini di Gela. Quindi non dobbiamo chiedere noi soltanto il lavoro, noi stiamo facendo passare oggi lavoro, lavoro, lavoro. Abbiamo i diritti pure. La città, non io singolo lavoratore. La città. E questo è bene che la politica lo debba tenere in conto. È una cosa che riguarda la città anche voi. Andate a mare e mangiate un pisce fresco». Con il conduttore in studio, quattro ex lavoratori dell'Indotto che protestano pacificamente da oltre 20 giorni e poi il parterre centrale, formato da politici attuali e della passata consigliatura. Politici per lo più di estrazione PD, ossia di quel partito che più di tutti ha massacrato e purtroppo continua a massacrare questa città. Con Renzi e Crocetta, principali protagonisti del massacro, ma con tanti altri comprimari a recitare magnificamente la parte. Chi volesse rivedere questa puntata di Agora con il ritorno della scheda di Giulio Cordaro dal titolo Fuori dal Coro, potrà farlo domani sera con la replica integrale che andrà in onda alle ore 21 su Canale 10 oppure attraverso i nostri indirizzi social, ossia il sito internet tg10.it ed il profilo Facebook di Canale 10 dove la registrazione della trasmissione sarà caricata a partire dalle prossime ore. Agora tornerà in diretta venerdì prossimo in prima serata con ospiti ed argomenti che interessano Gela e di Gelesi. La pagina della cronaca nera sono i carabinieri di Gela che indagano sulle cause che la scorsa notte hanno distrutto una cella frigorifera adiacente ad un capannone a sette farine sulla strada provinciale 81 in contrada a Strazzeri. Le fiamme in pochi minuti hanno divorato anche un migliaio di cassette in legno contenenti quintali di carciofi. Il capannone appartiene alla ditta Sicilverde Agricola e fa capo alla famiglia Ventura. I danni coperti da assicurazione sarebbero ingenti. Per domare il fuoco sono intervenuti i pompieri della locale di staccamento. Violenza, minaccia e resistenza pubblico ufficiale e porto abusivo di coltello sono le accuse alle quali deve rispondere un uomo di 35 anni denunciato dalla polizia di Gela. L'uomo, dopo aver danneggiato un bar del centro storico in preda all'ira e ai fumi dell'alcol si è scagliato contro gli agenti di polizia. Ed un 47enne è stato denunciato per stalking, ingiurie, minacce gravi e lesioni. L'uomo avrebbe perseguitato la sua ex fidanzata. Allo stesso è stato fatto di vieto di frequentare i luoghi dove potrebbe incontrare la sua ex nonché delle conversazioni di ogni genere. Gli episodi contestati fanno riferimento ad un periodo compreso tra gennaio e novembre scorsi. Sempre la polizia ha denunciato un 25enne per porto di armi ed oggetti atti ad offendere ed un 26enne per detenzione di uso personale di una dose di 2 grammi circa di marihuana. Solidarietà alla scuola Luigi Capuana di Gela. Una lotteria di beneficenza al fine di raccogliere fondi da destinare a Salvatore Spene il giovane di 44 anni sposato e padre di due bambini che in Germania è sottoposto ad urgenti cure mediche dopo aver superato un intervento chirurgico a Milano. L'iniziativa ha avuto lo scopo di trasmettere agli alunni il valore immenso della solidarietà. Preside, oggi è una giornata all'insegna dell'allegria, del divertimento ma soprattutto della solidarietà. Un principio importante che va impartito ai bambini fin dai banchi di scuola. Assolutamente sì anche perché noi attraverso i bambini arriviamo ai genitori perché la nostra età è quella in cui i genitori sono molto interessati e partecipano molto attivamente alla vita scolastica dei propri figli e quindi arriviamo ai genitori ovviamente a sensibilizzare i genitori. Noi abbiamo colto immediatamente la proposta dell'amministrazione comunale che è in particolare dell'assessore Sarinitro in questo caso di aiutare un nostro concittadino che conoscete tutti insomma ormai si è fatto tanto parlare giustamente di tutto ciò che è appunto Salvatore Spene. Quindi solidarietà a tutto campo perché educa questo educa educa ad essere poi un domani un cittadino responsabile ieri a scuola era presente anche l'assessore comunale Francesco Sarinitro Sicuramente serve raccogliere fondi per aiutare il nostro concittadino ma dal punto di vista educativo ha un valore enorme perché i bambini capiscono che se ci sono delle difficoltà bisogna stringersi insieme e cercare di risolverli poi in una situazione come quella di oggi dove ogni categoria manifesta il proprio disagio che sta diventando sempre più pesante quella di oggi questa così grande manifestazione vedere così tanti bambini insieme con lo stesso obiettivo quello di aiutare un'altra persona che è in difficoltà questo veramente ha un valore enorme ma un valore enorme anche in prospettiva perché vuol dire che se noi risolviamo i problemi materiali che sicuramente dobbiamo risolvere che sono di tipo economico l'humus di base cioè quello che quello che noi abbiamo dentro di fondo è sicuramente positivo e ci fa sperare per il futuro è stata convocata per martedì 9 febbraio prossimo al comune di Gera la ditta che si è giudicata in via provvisoria il servizio di rifezione scolastica il titolare dell'impresa concerterà con gli uffici l'attivazione della servizio in tempi brevi intanto il settore comunale all'istruzione ha acquisito in maniera celere i certificati previsti in modo da verificarne la coerenza con quelli dichiarati in sede di gara contestualmente la ditta sarà messa in contatto con le lavoratrici impegnate nel servizio di rifezione scolastica dopo un percorso trovaiato ci avviamo in questo modo verso la consegna dell'appalto dice l'assessore comunale ai servizi sociali Ligia Abela va dato atto agli uffici di avere lavorato con celerità per salare gli imprevisti finora registrati che hanno rappresentato un intollerabile intoppo per le volontà dell'amministrazione comunale disagio per gli alunni e difficoltà per le lavoratrici coinvolte carnevale 2016 a Gela è stato stirato il programma promosso dall'amministrazione comunale si parte oggi dalle 20 a luna con la notte bianca appuntamento in piazza Umberto lato chiesa madre con la sfilata di moda organizzata da Conci Event ed ancora gastronomia distribuzione di frittelle i negozi del centro storico rimarranno aperti fino a mezzanotte domani dalle 18 alle 21 sfilata ed animazione della banda musicale lunedì 8 febbraio alle 9 al Palacossiga festa di carnevale organizzata dalla scuola di primo grado secondo circolo didattico è martedì 9 febbraio dalle 10 alle 13 sfilata in maschera con gli alunni delle scuole primarie e secondarie banda musicale e majorette dalle 10 alle 14 in piazza Umberto I gastronomia e distribuzione di frittelle a cura dell'istituto alberghiero alle 13 a 30 in piazza Umberto I premiazione della scuola per la maschera più bella a cura di gelacentro e conci event dalle 18 alle 21 sfilata ed animazione della banda musicale ed in piazza Umberto I gastronomia e distribuzione di frittelle sempre a cura dell'istituto alberghiero Lilium Benessere si veste di carnevale organizza una festa dedicata naturalmente soprattutto ai bambini con il trucca bimbi sì abbiamo voluto coniugare i due aspetti con l'artistico con la maestra qui presente Rita Castellano un grande maestro nel campo artistico e noi della Lilium Benessere che più che altro ci dedichiamo con l'aspetto tecnico del trucco dei colori dell'allegria ecco è stato un modo per stare insieme per dedicare un po' a tutti in allegria unendo questi due aspetti che non sono da poco sicuramente da valorizzare perché a Gela abbiamo tante tante belle cose vogliamo che si parli bene di questa città abbiamo un periodo forse uno dei pochi momenti dell'anno in cui i bambini possono veramente trascorrere momenti spensierati e quindi dimenticare qualche problema invece dedicarci a loro completamente affinché possano svagarsi un po' sì abbiamo infatti voluto intitolarlo vando alla fantasia ecco vogliamo che la fantasia è importantissima vogliamo che si sviluppi nei bambini nei grandi negli adulti ma in tutto la fantasia che significa anche creatività quindi inventarci anche il lavoro inventarci ogni giorno quello che dobbiamo fare oltre al momento sicuramente delicato importante però noi vogliamo voltare pagina vogliamo che la città si risvegli e abbia delle idee e questo è un momento molto molto allegro molto così leggero non vogliamo avere grandi pretese però dare il nostro piccolo l'impulso a volte le pagina favole in famiglia è la prima rassegna di teatro per l'infanzia ideata dal Movi e promossa da Nave Argo e dalla casa del volontariato di Gela con questo progetto si vuole ribadire come anche il teatro possa essere un utile strumento per creare partecipazione e socialità all'interno di una comunità soprattutto coinvolgendo i bambini ed i loro familiari gli spettacoli in programma saranno rappresentati presso la sala teatro Don Pino Puglisi della casa del volontariato a Gela in via ossidiana primo appuntamento oggi alle 18 con lo spettacolo Cappuccetto Verde interpretato da Iridiana Petrone ed Emiliano Longo per la regia di Antonella Caldarella e in edicola lo vediamo il Corriere di Gela settimanale indipendente di attualità politica cultura e sport a diffusione comprensoriale fondato e diretto da Rocco Cerro la vertenza Gela tiene ancora banco questa settimana l'apertura della prima pagina è riservata alla puntuale ed attenta analisi di Sebastiano Abbenante il titolo del suo servizio è i perimetri della vertenza Gela reindustrializzazione senza obiettivi dei blocchi e le altre forme di protesta dei lavoratori compresi i resoconti delle ultime due sedute consigliari riferiscono anche Filippo Guzzardi Nello Lombardo e Giulio Cordaro Guzzardi firma altri due servizi uno sul patto per la Sicilia di Crocetta l'altro sul congresso del PD Cittadino in programma domani ma che potrebbe anche esaltare per l'ennesima volta per divergenze interne al partito nelle pagine interne altri articoli di attualità e cultura di Gandolfo Cascio e Gianni Virgataula mentre Nello Lombardo racconta il carnevale che va ad iniziare oggi con manifestazioni tradizionali musica e sfilate nello sport i commenti di Orazio Accomando sui campionati di calcio di eccellenza e di promozione in ultima pagina come di consueto la pagina dei piccoli annunci economici ci fermiamo linea alla regia per la pubblicità benvenuti seconda parte del telegiornale i gelesi che hanno richiesto di fruire del servizio di assistenza domiciliare devono presentare entro il prossimo 12 febbraio all'ufficio di segretariato sociale del comune di Gela l'attestazione in corso di validità dell'ISEE l'indicatore della situazione economica equivalente lo ha reso noto l'assessore comunale e servizi sociali Licia Abela il mancato adempimento agli sportelli di viale mediterraneo invaliderà l'istanza inoltrata lo scorso mese di gennaio da ultra 65 anni e portatori di handicap gravi ai quali è riservato il servizio di assistenza domiciliare mediante voucher sociale sono aperte le iscrizioni all'organizzazione di volontariato Giubbe d'Italia di Gela per informazioni contattare i seguenti numeri telefonici 0933 914419 o 340 7249 566 possibile anche inviare una mail a giubbe d'Italia a gela chiocciola hotmail.com ed ora la nostra consuetà rubrica in breve la sottosezione dell'unità al si di Gela celebra la giornata mondiale del malato oggi è prevista una celebrazione eucaristica che avrà inizio alle 15 presso la casa di riposo Antonietta Aldisio giovedì 11 febbraio giornata mondiale del malato in chiesa madre con la presenza del personale volontario e delle varie associazioni di volontariato domenica 14 febbraio celebrazione eucaristica presso la casa di cura Santa Barbara si terrà venerdì 12 febbraio prossimo alle 17 e 30 nei locali della libreria Mondadori di via Marconi numero 25 a Gela la presentazione del libro di Antonio Maira Calafiore La luce del tramonto converserà con l'autore il giornalista Anza Franco in furna sarà presente l'editore Simona Maimone Il comitato femminile della Procivis di Gela organizza per domani alle 17 una festa in maschera oltre la disabilità appuntamento nei locali di via Ossidiana 23 con animazione giochi di gruppo baby dance e buffet di dolci Proseguono gli appuntamenti musicali al Palazzo Principessa Pignatelli di Gela domani alle 19 concerto pianistico a quattro mani con Sara Musumeci e Tiziana Terranova il direttore artistico della manifestazione è il maestro Crucifisso Ragona Appuntamento col teatro al comunale Eschilo di Gela oggi alle 17.15 alle 21.15 Maglio Dovie e Matilde Brandi si esibiranno in spettacoloso con Cosimo Coltraro e Ciro Pusateri per informazioni 0933911892 oppure 3455880580 Stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al teatro Eschilo di Gela protagonisti degli eventi saranno Ernesto Maria Ponte lasciate libero lo scarrozzo e Giuseppe Castiglia il botteghino rimarrà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30 prossimo spettacolo con Ernesto Maria Ponte il 17 febbraio prossimo Continuano gli appuntamenti locali organizzati dall'associazione FIAB Gela Nanocicli nell'area pedonale dei Muretti di Machitella domani sarà allestito un gazebo informativo sarà come sempre l'occasione per i cittadini di incontrare la FIAB Gela Nanocicli sul territorio per conoscere tutte le attività legate alla promozione della ciclabilità urbana della mobilità sostenibile e la salvaguardia ambientale in città e a livello nazionale sarà possibile inoltre ritirare il calendario 2016 ricco di impegni e di divertimento ora parliamo di sport calcio il Gela cerca l'acuto domani con il Paceco si gioca al Vincenzo Presti obiettivo vittoria per Bonafini e compagni appuntamento con la vittoria da non fallire domani per il Gela al Vincenzo Presti la squadra biancazzurra nell'ambito della ventunesima giornata del torneo di eccellenza riceverà la visita del Paceco vincere e basta imperativo categorico dopo il pari di domenica scorsa sul campo del Camarat non sono più ammessi passi falsi perché il risultato in terra grigentina da qualsiasi angolatura lo si vede assomiglia ad una sconfitta contro una squadra che deve salvarsi il Gela si presentava all'appuntamento di domenica scorsa con i galloni di Capolista e perciò avrebbe dovuto far sua la gara ed invece è arrivato solo un punto e per giunta ottenuto in rimonta e la classifica ne ha risentito i biancazzurri infatti hanno perso la vetta scivolando al secondo posto e sono stati raggiunti dal Dattilo Noir in 90 minuti insomma è accaduto di tutto con la Capolista San Cataldese che ha ripreso il allargo portandosi a più due sul team allenato da Totò Bruccurelli San Cataldese 41 punti Gela e Dattilo Noir 39 e Paceco 35 sì proprio il Paceco squadra che domani sarà di scena sul terreno di gioco di Contrada Giardinelli ecco perché vincere vale doppio intanto si consoliderebbe la seconda piazza in aggreditoria a meno che la Capolista non vada incontro ad una sconfitta sul campo del Profavara e dato importante si ricaccerebbe indietro lo stesso Paceco distanziandolo di sette lunghezze vincere e basta lo abbiamo già detto e lo ripetiamo sarà importante come del resto lo è stato fino ad oggi l'apporto del pubblico di casa bisogna sottolineare che i tifosi biancazzurri anche domenica scorsa a Camarata non hanno mai fatto mancare il loro incitamento a Nassi e compagni ci può stare una partita storta e ci riferiamo proprio all'ultima in ordine cronologico l'importante è non ricaderci perché una squadra che punta alla promozione in Serie D non può permettersi certi passi falsi da domani nessun calo di tensione per lo scontro con il Paceco l'allenatore giolese potrà contare i suoi rientri di Bonafini ed Esposito non ce l'ha fatta Alma la gara di domani sarà diretta da Marco Cecchin di Passano del Grappa codivato da Salvatore Maccarrone di Acireale e da Antonino Junior Palla di Catania fischio d'inizio previsto per le 15 e nel campionato e nel campionato di promozione invece derby per l'attletico Gela terzo in classifica nel girone di i gelorossi di Peppe Misiti giocheranno contro l'attletico Caltanissetta in trasferta la squadra gelese lo ricordiamo è reduce da due vittorie di fila e vuole allungare in gradutoria puntando decisamente al secondo posto attualmente occupato dal Licata il distacco tra le due compagini è di tre punti sono due i film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchietta della Gela alle 17.30 e alle 19.30 Carol e alle 21.30 Il Ponte delle Spie abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci eseguito vi auguriamo un buon weekend appuntamento a lunedì a lunedì a lunedì a lunedì a lunedì a lunedì Grazie a tutti